Allora, dobbiamo battere Sandrina No, Sandra, perché l'abbiamo già battuta? Perché loro non c'è, aspetta Ah, dobbiamo... No, che palle, devo insegnare Molinello Aspetta... Ah, già, è vero Mannaggia, abbiamo andato alla Tana del Drago A proposito, lei ha pronte le domande, signore Aspetta che devo andare a far scordare forza ad large Che bello Chissà se riesco a beccare un dratini, ce l'ho le poche volarmi Perché vorresti un dratini? Così Ok Tanto... Slowbro... No, aspetta, aspetta, aspetta Slowbro, non sa far Molinello Dio santo Ma mi stai dicendo che qua non c'è un Mark? No, c'è Vado a prendermi un mini dell'Archie Ah, Wobbuffet Giusto, Wobbuffet Comunque, ti faccio notare, Eevee è al 44 Perché ti odia? Sai che la cosa è molto probabile Va bene Perché Eevee è il mio main Senti Non c'è Fernando qui Trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovata in realtà Allora, allora, con calma Ma scusami un attimo Quello che ottieni alla porta del drago Non ha anche coso, extra rapido Paco Questo qui è cristallo Ah, che schifo, è vero Buongiorno, Olmo Mi dia la master ball, grazie Vai via, vai via Dammi il drago spiro, levato dai coglioni Io ora proverò a fare una cosa brutta Schifo A parte quello Continuo a cambiare il percorso Spero di trovare tu sai chi nell'erba Voldemort Beh, che attacchi ha? Ah vada che davo Ehi, vai così Va bene, gentaglia E ora è dei cosi Dei com... delle domande Allora, il solito Lucky Warus ci chiede il genere porno preferito Scusa Questo non te lo dico Cosa ne pensate di sole e luna senza capi palestra? Meglio così Da una... da un vento di novità Dal gioco Meglio così Ventata Si dice ventata No, volevo farla battuta Ah, perché sai un... un vento, una fenta... Dio Adorami L'hard devi dimenticare Mulinello Ok Ora che hai dimenticato una mossa inutile Ti insegno un'altra mossa No, beh, non è inutile Non è inutile Perlomeno è forte Esatto Torniamo accanto Dobbiamo andare... dobbiamo andare per forza Sì, dobbiamo andare alla legge a pochi ma... Ma sai che a me non piace, canto... E allora, ciao, andiamo Torniamo a noi, va Ok, ultrabist preferita Penso... Onilego Cartana Uguale Cioè, Cartana è troppo ignorante E Nilego Come design è... Per me mi piace È un pene Paco, è un pene Non è un pene È un pene È una medusa Darki i701 Mossa zeta preferita per posa Sa che non me ricordo Oddio Io butto un inferno overdrive Giusto perché il nome è bello Overdrive Del arzo che ovviamente c'era scritto clickbait Ti vogliamo bene Eccolo la Jack che ci chiede Quando ci organizziamo per girare il pod Guarda, quando vuoi ci contatti Noi veniamo subito a Como Veniamo, no? Blink Fate un altro It's Time to Duel Sì, l'abbiamo fatto Avon Avon? Cosa vuole? Ma la grafica non la aggiorniamo più in post-produzione La giorno sempre in post-produzione Oh Cristo Cosa? Questa domanda è troppo lunga Allora Raccontateci la lore del vostro canale Dio Allora Tutto è nato No, no, no Non ce la facciamo in un episodio E basta Cazzo Vi diciamo solo che questo qua è un genio E mi ha detto Come scusa Io ti registro il gameplay E ok Tu lo commenti Va bene Perché? Perché ho il microfono rotto Poi Quando abbiamo scaricato Skype Il pirla lì Ce l'aveva Eh beh Sì E' un paroletto cretino No Il bello è che poi mi ha detto Sì ma Ti ho fatto registrare a te Il commentary Perché Perché non c'avevo voglia Ah beh Grazie allora Tutto questo nel lontano 2012 Spero rimanga lontano No era il 2011 addirittura Sul canale Fai zitto Ok Poi Sempre lo stesso Come vi siete conosciuti Come avete cominciato a fare video E a Chrome Avete vecchi video Che poi avete rimosso Ah lei proprio Perché troppo brutti O primi esperimenti con le a Chrome Che avete tenuto nascosti per nativi analoghi Sarei curioso di sapere di più Sui vostri Humble beginnings Ciao Spieghi tu come ci siamo conosciuti O faccio io Teniamocelo per la Lord Giusto Eh Altrimenti Hai ragione Faremo un video a parte Dai La Lord del canale Ha bisogno di spiegazioni a sé Esatto Dobbiamo spiegare il multiverso Ecco Prego Gabri94 Ita invece chiede Vostre impressioni sulla prossima console Nintendo La Nintendo Switch Che non si sa un cazzo Quindi Cioè Sì Abbiamo visto Un video Quando uscirà questo video Credo Che sarà anche uscito Il video di presentazione di Switch Lo sbaglio Sì È il 13 Sì Sì Quindi Ne sapremo proprio Quando dovremmo Caricare questo video Incredibile Thank G Chiede Vi piace Joe Junior No Mi Sì e no Ti fa così schifo No Non è che mi fa schifo Ma non è È presente Tomb Raider 2013 Sì È un bel gioco Ma non è Tomb Raider Ok Ecco Qua non lì è Joe Junior Ok È un bel manga Ma non è Joe Junior Tre Nder Blaze Chiede In chi là E in chi là In chi qua In chi su In chi giù Dio C'è questo qui Il Fish Che va di minimizzato Non ce la posso fare Ma te sei ancora là La dove Ah Porco schifo Ciccio Devo anche allenarmi Oh finalmente Adratini impara Ira di Adragio Ma basta con i minimizzati Basta Eh ti piacerebbe avere Aeroassalto Onda Shock Eh Beh Sì Era che forse anche meglio Ho vinto Kungbo Perfetto Poi Nicola Romano Ci chiede Che ne pensate Del manga Pokémon Adventures Comunque la camminata Del Team Rocket In generazione 10 su 10 Bellissimo Eh Ho letto solamente La parte di Sinnoh Di Pokémon Adventures Io fino a Sinnoh Guardo un po' Eh Devo dire che mi è anche Piaciuto Sì Non è male Sai cosa In Pokémon Adventure La parte di Rubino e Zaffiro E' decente Ah ecco sì Avevo letto anche tipo Un pezzo di Rubino e Zaffiro Sì E almeno Lì viene spiegato Che quello che porta in testa Rubi sia un Un cappello Bene Andiamo Alla via vittoria Maverick Blast Chiede Miltenk Garchon Poi Dragon Perché cosa c'entra Miltenk con due draghi Io dico Flygon Nel dubbio Dradigon Poi Andrea Nikas Chiede Il vostro capodestra preferito Omar Omar Decisamente Best wrestler Poi cosa ne pensate Delle arance Che Te le portiamo Se vai in prigione Insieme alle spremute Le pensi Linee liberi Poi Qual è la posa Di Giorgio Che preferite Siamo Come si Ancora di Okuyasu Penso Alex Oliveo Chiede Siete felici Che altri youtuber Non specifico il nome Stanno giocando A Pokémon Scars Edition Se con altri youtubers Intendi Chi sappiamo noi Cosa ne pensi Boh Come bo Non mi interessa Ok Penso che ognuno Sia libero di giocare A ciò che vuole Cioè guarda Guarda Froos Che gioca a Custom Mater D Nessuno dice niente Ed è comunque Un gioco di qualità Insieme a Eurotrack Simulator Eurotrack Simulator E allora E' bellissimo Quel gioco Vedo dei Tileset Fatti male Tipo Buchi quadrati E vabbè I buchi I buchi Sono buchi Accettali Per come sono Sono anche stupido Perché non ho preso i repellenti Che comunque Questa è la bestia Vittoria Ah guarda Io l'ho già finita Ma devo battere Ugo Aspetta Tu vorresti partecipare Alla sede Della lega Pokémon Beh Purtroppo devo Ma non farmi ridere Non penso Di essere qui Alla lega Per poi giocare a carte Feraligatr Ti presento Nero seppia Ma poi la sai La storia di Feraligatr Che avrebbero dovuto Chiamarlo Feraligatr Ma sono stupidi E hanno calcolato Ma negli spazi Ci vediamo Al monte luna Va bene ragazzi E mentre noi Ci alleniamo Come degli ossessi Perché a differenza Di Fento Questo gioco Perlomeno E' stato bilanciato E non abbiamo bisogno Di caramelle rare Basta semplicemente Allenarsi un attimino Vi lasciamo E Aspettiamo Prossime domande Che amici No Prossime domande Prossime domande